E-bay adotta l'Aquila. Ci sarà infatti uno spazio dedicato alla città dell'Aquila su www.ebay.it che offrirà visibilità nazionale e internazionale ai prodotti delle aziende aquilane e racconterà le storie degli imprenditori locali. Sono oltre 160.000 i prodotti attualmente in vendita in rete. Il fatturato delle piccole e medie imprese aquilane su ebay è cresciuto del 435% rispetto ai sei anni precedenti. Tra le categorie più vendute ci sono moda, casa, arredamento e ricambi, nonché accessori. Il 2015 inoltre ha visto un vero e proprio boom dell'export delle aziende aquilane con un più 464% rispetto al 2014. In meno di 60 giorni, oltre 35 attività, hanno iniziato la loro vendita sul web, producendo già vendite e ricavi. Questa è un'opportunità che i nostri imprenditori devono conoscere e poter sfruttare. L'Aquila Film Festival allarga lo sguardo verso l'universo gay. Lunedì 11 aprile si terrà all'auditorium del Parco del Castello alle 16.30 la cerimonia inaugurale della prima edizione dell'Aquila GPT Film Festival. Il programma prevede 10 film e 6 corti in concorso, che saranno presentati durante la settimana, fino a sabato 16 aprile, quando saranno proclamati vincitori. I cortometraggi, realizzati da giovani artisti, sono incentrati sulle tematiche omosessuali e sul recente dibattito istituzionale riguardante le unioni civili. Un argomento di cui si è discusso ampiamente anche in Senato. Per questo l'evento sarà patrocinato dalle senatrici Monica Cirinna, che presentò proprio il disegno di legge sulle unioni civili e che sarà presente all'Aquila Nulendi 11 per l'inaugurazione, e da Stefania Pezzopane. Questo film festival, che si occupa proprio dell'allargamento dei diritti, della sfera dei diritti alle coppie omosessuali e ai soggetti, che fino ad oggi sono stati esclusi dalla partecipazione diretta e dai diritti, ovviamente il Senato è in campo. Oltre che dal Senato, il festival sarà patrocinato dal Comune, dall'Associazione Arcighei dell'Aquila e dall'Aquila Young di Marcello Di Giacomo, che illustra il significato del festival. Le tematiche sono svariate, si va dall'omofobia ai diritti alle coppie, quindi abbiamo cercato di prendere una forbice abbastanza ampia di quello che saranno poi i temi dei diritti del mondo LGBT. Un'Aquila incerottata si avvicina alla sfida di domenica pomeriggio a Prato. Nella giornata di ieri, infatti, si è fermato il mediano croato Irvoj Milicevic, uno dei più positivi nelle ultime uscite dei Rossoblu. Si tratta di un problema muscolare al quadricipite. L'ecografia, a cui il centrocampista di proprietà del Pescara si è sottoposto nella giornata di ieri, non ha evidenziato lesioni, ma lo staff tecnico Aquilano non ha intenzione di rischiarlo domenica in vista del rush finale di stagione. Stesso discorso per l'esperto centrale difensivo Emanuele Pesoli, che ha ancora fastidio al flessore. Difficilmente verrà schierato dal primo minuto a Prato. Dunque il tecnico Carlo Perrone dovrà ridisegnare il suo 3-5-2. In difesa, al posto di Pesoli, considerando anche la concomitante assenza di Maccarrone per squalifica, potrebbe essere il turno del giovane Luca Bruno, che ancora non ha mai giocato dal suo arrivo nel mercato invernale, mentre nel cuore della mediana Milicevic dovrebbe essere sostituito da Benzaia, con Bulevardi e Manuel Mancini-Mezali. Sulle fasce potrebbe rivedersi il tuttofare triarico impiegato, con ottimi risultati nel finale contro la Maceratese da trequartista dietro la prima punta. Non è però escluso che alla fine l'allenatore aquilano opti per la conferma del tandem San Domenico-Perna. In questo caso, triarico potrebbe giocarsi il posto da quinto di centrocampo con Chiri Eletti, appena tesserato e pronto all'esordio. Grazie per la visione!